E' un po' più vecchio, e se vuoi vedere qualcosa che ha detto, guardate cosa è successo. Una persona del pubblico è stata uccisa e altre due sono in condizioni critiche. In un post sul suo account Truth Social, Trump ha dichiarato di essere stato colpito da un proiettile che ha perforato la parte superiore del suo orecchio destro. E' stato dimesso dall'ospedale e, secondo quanto riferito, continuerà la campagna elettorale come previsto. In un discorso, il presidente Joe Biden ha detto che tutti devono condannare la violenza politica. Biden ha parlato con Trump, ma la Casa Bianca non ha rivelato cosa sia stato detto nella loro conversazione.